Il Paradiso delle Signore, cambio in programmazione, la puntata del 13 febbraio. Cambio programmazione per il Paradiso delle Signore 7, la seguitissima soap opera del primo pomeriggio di Rai Un in grado di appassionare oltre 2 milioni di spettatori al giorno. Il mese di febbraio sarà caratterizzato da una serie di piccole modifiche legate alla messa in onda della soap opera, lunedì 13 febbraio. Ad esempio, gli spettatori che si collegheranno su Rai 1 per seguire il nuovo episodio in prima visione assoluta, resteranno profondamente delusi. Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione del Paradiso delle Signore 7 di febbraio, rivelano che ci sarà una modifica legata alla settimana che va dal 6 al 10 febbraio 2023. La soap opera, infatti, sarà in onda eccezionalmente anche sabato 11 febbraio, una giornata che si preannuncia particolarmente importante per la rete Ammiraglia Rai. Data la messa in onda della finalissima del Festival di Sanremo 2023, con relativa messa in onda di tutti i programmi del Daytime incentrati sulla Kermesca Nora. Il motivo di questo cambio palinsesto, però, ha a che fare con la cancellazione della puntata del Paradiso delle Signore 7 di lunedì 13 febbraio. Eccezionalmente per la settimana dal 13 al 17 febbraio, l'appuntamento con la soap opera non inizierà di lunedì pomeriggio, l'episodio risulta cancellato dalla programmazione della rete Ammiraglia Rai. Probabilmente per lasciare spazio ad uno speciale del Tg1 dedicato ai risultati delle elezioni regionali. Di conseguenza, l'appuntamento con la seguitissima soap opera riprenderà regolarmente a partire dal 14 febbraio. Con una la fatidica puntata di San Valentino, da sempre celebrato anche tra i vari protagonisti del grande magazzino milanese. Ma cosa succederà in questi nuovi episodi del Paradiso delle Signore che saranno trasmessi durante il mese di febbraio in tv? Le anticipazioni della soap opera rivelano che Gemma inizierà ad interessarsi alla situazione sentimentale del suo ex fidanzato Marco. La ragazza, infatti, si renderà conto che c'è qualcosa di non detto nel volto triste di Marco. Motivo per il quale deciderà di vederci chiaro e indagherà anche sul suo rapporto con Stefania. Intanto, Tancredi continuerà a portare avanti la sua crociata per cercare di separare e far allontanare Vittorio e Matilde. Spazio anche alle vicende di Francesco, si scoprirà che il ragazzo ha una grande passione per la moda ma, dopo una serie di vicissitudini, si è deciso a mollare il suo sogno. Spazio anche alle vicende di Francesco, si è deciso a mollare il suo sogno. Spazio anche alle vicende di Francesco, si è deciso a mollare il suo sogno.